Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti nuovo video vlog barra checchiericcio non so neanche io come titolo dello sto video sperando che vi possa piacere anzi che vi piaccia, non so neanche io come lo sto dicendo ma va bene lo stesso allora, mi sono preparata tutto quanto nel senso che qui ho pulito già da stamattina non ho fatto il video vlog delle pulizie perchè non avevo voglia il caso, ma vuole il caso che domani o dopo domani farò altri video motivazionali, non so quanto ci sarò e se ci sarò, scusate ma ogni tanto arrivano dei messaggi dalle notifiche da facebook ma vabbè e quindi vi dicevo, arriverò a fare dei video motivazionali sempre con la fotocamera, col telefono non lo so, vediamo, non importa quale dispositivo lo farò l'importante è che vi arrivano tanti altri video prendi fiato stai calma tranquillissati e dunque si arriveranno tanti altri video arriverà altri video si mi arriveranno anche altre notifiche da instagram mi stavo dicendo vi arriveranno altre notifiche di altri miei video dove ovviamente farò video di trucco video skin care anche se ormai l'ho già fatti strafatti ma ovviamente vi riempirò di tanti altri video sulla mia skin care non solo abituale ma anche quella che faccio di tanto in tanto non sempre che la faccio quando mi voglio proprio coccolare in estremis e si ragazzi perché c'è proprio voglia di coccolarmi tra come si dice tra zucchero e miele me lo spanto come ne in faccia vabbè faccio seguendo le solite passate di di acqua prima mi lavo il viso me lo detergo bene poi mi metto una scrub semplice scrub fatto in casa che si può recuperare con i semplici prodotti quella è la mia skin care e non solo scusate il cane che abbaglia ma non è un mio video se non ci sono i cani che abbagliano i strombazzamenti delle macchine più via le mette campane vabbè perché stamattina non volevo fare un video così ma alla fine non ci sono riuscita avere un video vlog dove pulisco no non è stato possibile quindi cosa ho detto lo faccio ovviamente adesso dove ho letto pulito ordinato è ben fatto ben fatto perché alla fine l'ho fatto come potuto e non so se è uscito bene o male ma almeno non è disordinato né sfatto appunto non so se ho detto la stessa cosa ma è quello che comunque ragazze io non so in quanti video riuscirò a fare sta video quindi questo quanti spezzettoni di video ma mi sa che la farò tutta in un in un unico video le mie ultime parole famose perché se mi hanno una mente rompe devo schiacciare il play e ricominciare da capo quindi vabbè e sì così è e niente quindi ragazze il prossimo video saranno altri tipi di video motivazionali non lo so quali se saranno vi farò sapere attraverso un post su instagram non lo so neanche io vediamo almeno che non lo vedrete un video a sorpresa vediamo dico sempre vediamo perché ragazzi non lo so non ne ho idea sinceramente cioè e nulla dunque 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 non so neanche io che caspita allora andiamo un po' chi le sono da questo perte ah sono già le 8 molto bene vedete che sono già le 8 ok ragazze io mi sa che chiudo non chiudo il video vlog non so se salutarvi qua o meno ma presumo di sì magari ci vediamo domani mattina che ne dite vuoi direte ma ti decidi sì mi decido solo che boh sto guardando se mi trucco adesso ma non è il caso ah vado a farvi vedere che mi ha fatto le unghie ecco meno male che non ho chiuso il video subito adesso ecco queste sono le mie unghiette e non so la barca dello smalto però fate vedere diverse volte lo smalto che ma non me lo ricordo comunque questa è la marca dello smalto questa è la marca che sto a dire questo è il colore dello smalto come potete ben vedere sì lo so è messo male ma che se ne fai ragazzi e poi niente mi ha fatto della ceretta che non so se si è fatta bene o meno e metà ha usato anche il rasoio devo dire la verità non ci riesco a dire però è così e mi ha passato le unghie le unghie sì vabbè ragazzi non me ne vbagliate ma sono stanchissima poi ho fatto ho pulito ho fatto le pulizie di casa quindi sono stanchissima ragazzi sono molto stanca non è una scusa ma è la verità mi ha applicato stavo dicendo lo smalto nelle unghie dei piedi e ora ve lo faccio vedere aspettate allora eccolo qua come potete ben vedere si vede qualcosa sì vedete vedete eccolo qua vedete si si dovrebbe vedere qualcosa ecco non so cosa sia si sia visto però questo è e niente intanto vedo che mi stanno levando un mucchio di messaggi da instagram poi vedo e poi commento da voi e basta non so altra cosa ebbene ragazzi adesso io chiudo non lo so vediamo è vero che mi hai visto i miei video sono senza senso però non lo vedo veramente a volte boh strano questa cosa voglio dire è strano questa cosa che ha poco senso il mio canale però boh e niente ragazze aspettate ci vediamo dopo allora rieccomi dunque ero a farvi cioè a farmi a leggermi scusate sono sempre più stanca ragazze non me ne vogliate ma è così ero a leggere i messaggi che mi sono stati inviati su instagram e nulla adesso giro la telecamera vi faccio vedere lo smanto sui piedi non me ne vogliate si è messo male ma non sono un'esperta me lo metto come credo io ovviamente se mi volete dare consigli anzi si sono bene accetti altrimenti non lo so vedete voi allora eccomi ragazze questi sono i miei piedini e questi sono il mio smantino ecco vedete già e nulla questi sono le mie unghiette spero che vi possa piacere non fate caso alle ciabatte perché tanto poi le laverò e nulla ecco vedete spero che vi sia piaciuto questo sorta di video vlog perché non so in quante parti lo taglierò se lo taglierò perché sinceramente mi piacciono i video senza essere troppo tagliati altrimenti non si capisce veramente una mazza e nulla dunque cosa dirvi di bello che a breve a breve non oggi domani magari vi farò dopo essere tornata dalla santa messa non lo so se riuscirò a farvelo però ci provo a farvi il video della mia postazione trucco ok cioè un decluttering che poi non so neanche se ve lo faccio scusate ma la spalla che mi duele tanti movimenti che ho fatto per lavare i piatti metterli a posto e mettere a posto altre anche altre cose mamma io quanto sono stancca sono stanchissima ecco già e niente questo è quanto vedete che bella il vestitino che ho proprio bello vero bellissimo bellissimo aspettatemi qua ho il letto un po' messo male messo in modo che io ne posso anche cadere volendo e per cipitare giù no comment però vabbè questo è poi più là prenderemo una prenderò anzi una televisione e non so neanche dove metterla se metterla di là vedete se metterla lì dove che sto toccando ecco lì che sto indicando lì a posto della mia come si chiama della mia stampante vedremo il da farsi perché sinceramente non ho voglia di stare lì a a menarmela troppo per sapere come devo mettere una posizione a una televisione smart tv per guardarmi video o anche netflix e altre robe varie che so poi ho saputo che anche netflix non so se sia una stupidata ma ho paura che chiuda netflix che richiudano netflix non voglio sapere non voglio che sia così ma fatemi sapere se è così io ora apro qua perché sto crepando di caldo ok abbasso per la voce perché tra l'altro ragazze si fa caldo ragazze non ce la posso far stare con la porta chiusa con la finestra chiusa ho dovuto aprire perché sinceramente è veramente troppo caldo c'è quindi l'ho dovuta per forza aprire comunque scusate se sono l'ocorroica ripetitiva ma è così e niente allora adesso che ne sono perché non voglio perdere di mettere questo cacchio di gocce sono le 8 e 9 minuti come potete ben vedere e non so alle 8 e mezza mettere le gocce con l'irio per gli occhi yes si e nulla questo è quanto l'irio che ho pulito ha questo benedetto braccio vabbè e niente se sentite schiamazzi non ci fate caso ma è qua giù sotto a casa mia come potete vedere sentite che asso è questo c'è gente che sta parlando per i cavoli sui giò e quindi cos'altro dirvi di bello nulla vi auguro una buona cena e ci vediamo in un altro video a parte perché non ho l'attenzione di fare un video troppo lungo altrimenti neanche me lo guardate quindi non so cosa dirvi adesso io chiudo vi dico già che sinceramente ho bisogno di come si suol dire guardarmi qualche poco di video su youtube oppure la tele vediamo un po' bene a presto ciao ciao